E poi, in una mandorla, vedete, in quella fresco, ci sono Maria e il Signore Gesù. Gesù che abbraccia sua madre, che è stata assunta in cielo, è salita al cielo. E la mandorla è il segno della santità, della divinità. Quattro angeli sollevano, tengono sollevata quella mandorla perché sia visibile a tutti. E il Signore Gesù mette un braccio sulle spalle della madre sua e la madre sua appoggia la testa sul tetto del Signore. A fianco, poi, un altro a fresco con Maria e il Signore Gesù seduti su un seggio di gloria. Maria, regina, incoronata regina, assieme al suo figlio.